Buonasera, ci proviamo una bella insalatina Buonasera, buona insalata Fai un movimento fluido, velocità Buona insalata Ecco le patate le patate un bel sacco di 2 kg di patate questa sarà patatina e friggia e dopo direi anche 2 peperoncini piccanti da mettere sull'insalatina oh ma ti piace? si si buonissime guarda che poi l'effetto collaterale no no vai tranquillo e voilà ecco ricordiamoci la tessera e buon appetito